Dalla sponda occidentale del lago di Como, fra Arginio e Tremezzo, si stacca una strada che da l'enno sale alla parrocchiale di Santo Stefano e alla spianata dominata dagli edifici che costituirono l'abbazia dell'acqua fredda, di fondazione Cistercense, ma oggi sede di frati Cappuccini. Eretta nel 1100 sul luogo dove già esisteva una cappella romanica, i cui resti si trovano sotto il campanile, poco rimane di quanto fu edificato per la primitiva costruzione. Qualche elemento rispecchia ristrutturazioni avvenute nel 1600 e nel 1700, come alcuni affreschi del fiammenghino Giovanni Mauro della Rovere della prima metà del 1600 e vari elementi marmorei.